buongiorno a tutti in questa breve presentazione tratterò il tema di come sia possibile misurare quantitativamente le componenti essenziali della relazione focalizzandomi per ragioni di brevità sul benessere soggettivo quindi parleremo di web in psicologico è importante occuparsene perché il benessere psicologico gioca un ruolo molto importante in diversi contesti per il paziente significa occuparsi del suo stato di qualità di vita e anche del stato di salute in generale per il farmacologo clinico che deve compiere dei trials è un parametro di efficacia sempre più importante anche se è considerato un parametro soft ma molte agenzie regolatorie stanno richiedendo di utilizzare questo questo concetto per valutare l'efficacia dei farmaci a livello governativo ha un grosso valore politico sociale ed economico si è capito che il pil non è più un indicatore fedele del della qualità di vita ma bisogna andare più in profondità a chiedere direttamente alle persone qual è la loro percezione di benessere nell'ambito invece del chi si occupa di salute all'interno della sanità diventa una misura di esito per gli studi che hanno appunto questo obiettivo da raggiungere ed è anche un fattore di rischio medico che si è stabilito con studi epidemiologici importanti sicuramente è l'ambito in cui ci troviamo è molto complesso perché abbiamo una pletora di termini che sono utilizzati per esprimere questo concetto e in questa pletora di strumenti a disposizione noi abbiamo scelto fin dall'inizio il psychological general being index è uno strumento ideato dallo psicologo americano hard d qui a partire dal fine anni sessanta su input del governo americano che voleva avere una sorta di felicitometro per misurare anche gli aspetti qualitativi della salute oltre che le indagini che faceva con i soliti esami clinici e di laboratorio e come lo descrive l'ho sviluppato per fornire un indice che potrebbe essere utilizzato per misurare le auto rappresentazioni di stati affettivi o emotivi intrapersonali che riflettono un senso di benessere o di disagio soggettivo è una scala molto interessante perché è bipolare e quindi misura sia il distress che lo stato di benessere positivo non è specifica per particolari malattie e quindi ha un utilizzo pressoché universale misura la sensazione soggettiva di benessere psicologico a 22 items che possono essere come domande o affermazioni e ogni item ha sei risposte possibili che devono essere scelte dal soggetto a cui viene somministrato il questionario con un punteggio su una scala likert che va da 0 a 5 e che si riferisce alle ultime quattro settimane ne deriva che il punteggio totale varia da un minimo di 0 a un massimo di 110 e più è alto il punteggio è migliore e la qualità di vita è stato ideato per essere autosomministrato e in effetti la sua autosomministrazione è abbastanza agevole perché abbiamo potuto appurare che il tempo per la compilazione a seconda dell'età e dell'educazione è compreso tra 8 e 15 minuti quindi abbastanza pratico quali sono i suoi punti di forza beh innanzitutto lo strumento è in grado di misurare il bilancio tra stati emozionali ed affettivi negativi positivi come già ho detto contenendo anche aspetti di benessere positivo non ha riferimenti specifici a sintomi fisici di stress emotivo non è specifico per particolari malattie come abbiamo detto e non è orientato a discriminare i casi psichiatrici ecco qui avete una visione di come si presenta il questionario con le sue 22 domande come vedete tutte le domande si riferiscono alle quattro settimane precedenti cosa molto interessante è che questo strumento ha un software molto particolare al suo interno e in questo software giocano se i domini di appartenenza degli items sia la presentazione degli items come domande o affermazioni il senso di orientamento delle risposte e la matrice intensità e frequenza che permette di graduare il senso della risposta per quanto riguarda le sei dimensioni vedete abbiamo la possibilità di misurare la componente di ansia di depressione e la presenza di autocontrollo l'aspetto di positività e benessere misuriamo anche la percezione dell'individuo del suo stato di salute in generale e la vitalità le risposte hanno un orientamento che può essere crescente ovvero la prima opzione che la persona può scegliere è quella peggiore e l'ultima è quella migliore oppure al contrario decrescente dove invece la prima opzione è quella migliore anche il modo con cui le risposte graduano l'intensità di benessere o di distress di ogni risposta può essere basato solo sulla intensità e ce ne sono sei di domande di item che hanno questo tipo di utilizzo può essere basato solo sulla frequenza e sono altre sei e dieci item hanno invece una commistione di intensità e frequenza associata in maniera abbastanza variabile quindi ho cercato di evidenziare con il colore di queste freccine le modalità in cui le risposte di ogni item sono strutturate questo per farvi vedere che nelle 22 domande c'è una combinazione sempre mutevoli di queste componenti nascoste e questo fa sì che il soggetto chiamato a scegliere la risposta ad ogni item che meglio si adatta al proprio vissuto debba leggere attentamente le risposte e evita che si possa posizionare in automatico su un certo livello quindi questo consente di avere uno strumento di una grande solidità nostro gruppo utilizzando questo strumento ha svolto ricerche epidemiologiche sulla popolazione italiana in varie ondate a partire dall'anno 2000 e queste ricerche hanno permesso di validare dal punto di vista psicometrico lo strumento stesso e di appurare anche la solidità delle misurazioni qui vedete come il benessere psicologico percepito dalla popolazione italiana nel corso degli ultimi vent'anni risulti molto stabile e riproducibile con un valore medio intorno ai 78 punti su 110 è stato anche sviluppato una forma abbreviata dal nostro gruppo di ricerca questo perché per poter mettere a disposizione una uno strumento di più rapida e facile somministrazione anche nella pratica clinica di tutti i giorni o in studi epidemiologici effettuati su grandi numeri di soggetti questo pgvb short ha una selezione deriva da una selezione degli item attraverso un modello di regressione lineare multiplo per trovare la combinazione dei predittori più rilevanti per una descrizione della variabile latente abbiamo utilizzato una procedura sequenziale stepwise e il valore di indice di correlazione al quadrato l'r quadro ci ha permesso di valutare la bontà del fitting e scegliere il modello ridotto più adeguato qui vedete la gerarchia dei vari item per spiegare la varianza totale dello strumento standard come si sviluppa attraverso la selezione di diversi item della scala con i primi sei selezionati attraverso la procedura stepwise vedete che arriviamo a spiegare oltre il 90 per cento della varianza di tutto il questionario con 22 items e quindi abbiamo deciso di utilizzare questi sei item per comporre questa versione breve del pgvb le domande gli items che sono entrati in questo questionario breve in effetti riflettono praticamente tutti i domini della scala originale per l'ansia abbiamo l'item numero 5 la depressione l'item numero 7 e così via solo la salute in generale non ha avuto un item scelto mentre ce ne sono due item che riguardano la vitalità e qui vedete il contenuto della domanda per ogni dominio quindi questo rappresenta la versione breve di questa scala abbiamo potuto pubblicare tutto questo lavoro in un articolo internazionale e devo dire che questo articolo è attualmente molto citato e ci vengono fatte richieste per l'utilizzo di questa scala da molti centri sia in Italia che dall'estero grazie a questo strumento il nostro gruppo ha potuto stabilire la relazione che esiste tra l'indice di partecipazione culturale ovvero il numero cumulativo di occasioni culturali legate al cinema al teatro, al mostre, concerti, all'opera, musei e così via nel corso dell'ultimo anno e il benessere psicologico percepito abbiamo classificato ogni soggetto sulla base di questo indice per avere un indice alto se ci sono state più di cento occasioni culturali nell'ultimo anno oppure un indice moderato da 50 a 100 occasioni culturali un indice basso, meno di 50 occasioni culturali e addirittura indice zero se in un anno il soggetto non ha potuto svolgere nessuna di queste attività culturali nei vari studi epidemiologici condotti nel nostro paese è stato possibile stabilire che c'è una relazione molto forte tra questo indice culturale e l'indice di benessere medio che supera il valore della media italiana quando ci sono almeno 50 partecipazioni all'anno e con 100 si raggiunge un picco questo trend è confermato anche in uno studio fatto sui cittadini milanesi nel 2010 vedete esattamente lo stesso andamento e questo è l'ultima survey fatta in Italia nel 2018 che conferma l'esistenza di questa importante relazione che quindi sostiene il concetto che la partecipazione culturale sia in grado di migliorare il benessere psicologico delle persone questi sono alcuni articoli pubblicati su questi studi di cui vi ho parlato nel corso del tempo e con questo io credo di avere chiuso ma volevo ricordare che lo strumento di cui vi ho parlato fa parte del protocollo che il gruppo di studio di Alessandria coordinato dalla dottoressa D'Aquino sta conducendo per esplorare come un intervento educativo di Medical Humanities rivolto a sviluppare la capacità di empatia degli operatori sanitari possa incidere in maniera significativa sul loro well-being ancora grazie per l'attenzione buona continuazione